Aspettiamo che lui gli voleva far spesso di fare cose che lui era pronti in guarda a fare. Ma che c'è l'issima? Ma io gli volevo far spesso di fare. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso di, non lo so di spesso di, non lo so di spesso di, mi scendeva. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso di fare. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso di fare. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso di, non lo so di spesso di, non lo so di spesso di, non lo so di spesso. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso di, non lo so di spesso di, non lo so di spesso. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso di, non lo so di spesso. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso. Che poi lui lo voglia fare, non lo so di spesso. La mamma mia ammalcina, è stata la relazione al tutto, quando ancora la mamma mia brucia, l'opera durata lì, è stata la mamma mia ammalcina. Un rai e tre, fatto da te che è sciante, sa stasera da chi sa fonte, puntavi nel resto sono. Un rai e tre, fatto da te che è sciante, sa stasera da chi sa fonte, puntavi nel resto sono. Un rau e tre! Un rau e tre... M per me amm!